signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale primo video della stagione e come tutti gli anni lo andiamo a dedicare a un argomento filosofico quest'anno nello specifico andremo a cercare di rispondere a una delle domande fondamentali dell'ambito dei giochi di ruolo che vengono costantemente fatte ma cui sembra impossibile trovare una risposta il titolo lo avete visto la domanda a cui andremo a rispondere questa settimana è che cos'è un gioco di ruolo apparentemente sembra una domanda molto facile dopo tutto se voi siete qui a guardare un video che parla di gioco di ruolo probabilmente siete interessati al gioco di ruolo quindi sapete che cos'è un gioco di ruolo avete giocato a un gioco di ruolo e probabilmente vi è anche già capitato di dover spiegare a un amico o a qualcuno che vi abbia chiesto cos'è che fate voi per passare il tempo che cosa voglia dire giocare di ruolo ed essere un giocatore di ruolo ma siete sicuri che la spiegazione che avete dato in quei casi sia sufficiente vi do il tempo della sigla per pensarci ok ci avete pensato bene tenete quella definizione a mente anzi scrivetemela qui sotto dei commenti così vediamo poi le varie risposte delle varie persone io vi do un attimo per scrivere no non è vero non c'ho voglia di aspettare stoppate il video se dovete scrivere poi fatelo ripartire ora dato che noi qui sul canale del master k e da bravi giocatori di ruolo facciamo finta di essere delle persone serie cominciamo a cercare di trovare una definizione oggettiva e obiettiva dopo tutto la definizione personale che ognuno di noi potrebbe dare lascerebbe comunque il tempo che trova volendo essere precisi diciamo che in questo video noi andremo a cercare qual è la verità sulla definizione di un gioco di ruolo quando si vuole cercare una verità fondamentale su qualche argomento esistono molti metodi uno dei quali è quello del dialogo platonico è un metodo utilizzato ancora oggi e deriva dal suo nome dal fatto che platone trascrisse molti dialoghi di socrate il suo maestro e socrate parlando con la gente dopo una serie di botte risposta domande contro domande e definizione degli articoli arrivava a trovare qual era la verità dietro le cose è un metodo estremamente antico ma viene ancora usato tutt'oggi quindi possiamo cominciare proprio da quello salve udipro tu che sei il più colto tra tutti gli ateniesi dimmi potresti aiutarmi a risolvere un dubbio che mi assilla ma certo socrate dimmi qual è il tuo dubbio e io vedrò di fare in modo che sia risolto grazie udipro dimmi allora qual è la corretta definizione di un gioco di ruolo socrate non potrebbe essere più semplice un gioco di ruolo è quando persone diverse si radunano intorno a un tavolo per decidere delle sorti di personaggi immaginari tramite il lancio di dadi adesso è chiaro quindi warhammer è un gioco di ruolo no socrate quello è un gioco di strategia ma come tu mi insegni udipro lì vi sono personaggi la cui sorte viene decisa dal lancio di dadi cosa può essere se non un gioco di ruolo beh socrate non è proprio esatto forse dovrò essere più chiaro con le mie parole un gioco di ruolo è quando ognuno dei giocatori controlla un personaggio e tutti assieme cercano di portare a termine la loro missione ora vedo cosa vuoi dire con le tue parole udipro è in vero quindi che call of duty sia un gioco di ruolo no socrate quello è un videogioco il cui intento è totalmente diverso ma vedo che le mie parole ti hanno confuso lascia che io mi spieghi ancora meglio è un gioco di ruolo quello in cui ogni giocatore ha un personaggio e assieme agli altri vive una storia che racconta il master grazie udipro ora comprendo realmente cosa vuoi dire ha quindi torto chi dice che microscope sia un gioco di ruolo quanto non vi sono personaggi nel master no socrate tu travisi le mie parole microscope è un gioco di ruolo ma le cui regole sono diverse da quelle degli altri è un gioco di ruolo tutto quello che le regole di tale gioco dicono di esserlo grande la tua sapienza udipro finalmente tutto ora mi è chiaro quel che non è esplicitamente scritto all'interno del regolamento non può essere considerato gioco di ruolo no no vedi socrate è possibile che alcuni momenti del gioco sia necessario improvvisarli o che siano volutamente lasciati meno regolamentati ma quindi udipro ancora non mi hai detto cosa sia il vero gioco di ruolo perché mi lasci qui confuso guarda socrate sarei felice di continuare a discutere con te su cosa sia il gioco di ruolo ma ho lasciato la tre reimi in doppia fila e temo l'avvinto della municipale per cultura generale quello non è solo un esempio di dialogo platonico ma è il caso particolare che viene definito il panino di platone nell'esempio classico che in realtà è moderno è cominciato a già negli anni 80 viene chiesto di definire che cosa sia un panino e ovviamente vengono dati sempre vari esempi di cibo vale definizioni ma ognuna di queste o include nella definizione cose che ovviamente non sono panini o esclude cose che invece sicuramente lo sono proprio per dimostrare che è virtualmente impossibile definire la verità su cosa sia un panino nonostante chiunque di noi verso davanti a una serie di portate a una serie di cibi potrebbe indicare immediatamente in maniera abbastanza univoca che cosa sia un panino e che cosa no allo stesso modo per ognuno di noi sarebbe auto evidente se quello che sta facendo è un gioco di ruolo o non è un gioco di ruolo ma come avete visto definire esattamente cosa sia un gioco di ruolo e cosa non lo sia risulta estremamente complesso in pratica per quanto ognuno di noi abbia un'idea soggettiva molto chiara e cosa sia un gioco di ruolo è praticamente impossibile danno una definizione oggettiva ora se il discorso terminasse qui sarebbe semplicemente un aneddoto divertente qualcosa che potreste fare ai vostri amici per far finta di darvi un tono ed essere uno che ha studiato la metà eutica invece di perdere il tempo dietro il video del master kai ma dato che questo è un video del master kai ovviamente le cose da qui si fanno più complicate cercare di dare una definizione oggettiva di che cosa sia il gioco di ruolo infatti non è semplicemente un interessante esercizio mentale o se volete essere cinici una mera perdita di tempo ma può rivelarsi un vero e proprio problema al di là del fatto che il senato di atene con danno socrate a morte proprio perché andava in giro a fare questo tipo di domande paradossalmente il problema infatti è che quando si cerca la verità su un argomento qualunque sia la conclusione a cui si arrivi qualsiasi cosa non rientra in quella conclusione per definizione è falso il gioco di ruolo è una forma di arte narrativa in continua evoluzione anche perché rispetto ad altre forme d'arte è estremamente recente e la sua particolarità è quella che nel gioco di ruolo pubblico e autore dell'opera praticamente coincidono per cui ognuno di noi al proprio tavolo fa quello che ritiene interessante per sé per il proprio gruppo probabilmente prendendo ispirazioni da altre opere o da altri gruppi ma fondamentalmente quello che avviene a ogni singolo tavolo è dettato da quello che piace alle persone che formano quel tavolo ovviamente quindi la nostra definizione personale di che cos'è il gioco di ruolo andrà a essere molto influenzata da quello che a noi piace fare quando siamo al tavolo con gli altri giocatori di ruolo per forza di cose però andando a definire che cos'è il gioco di ruolo in questo modo si ottiene che per ognuno di noi quello che fa al proprio tavolo è il vero gioco di ruolo e di per sé questo non sarebbe un sobrema se non fosse che la conclusione logica è che qualunque cosa non venga fatta al mio tavolo per definizione non è il vero gioco di ruolo capite quanto può essere pericoloso questo atteggiamento non solo andate a fondamentalmente desautorare gli altri del modo in cui loro si divertono perché evidentemente se il vero gioco è quello che faccio io non è quello che fanno loro quindi loro non sono veri giocatori di ruolo ma va anche a creare delle sottoculture delle bolle di pensiero che escludono chiunque altro per rimanere a ruminare nel solo concetto limitato del quello che piace a me senza né avere influenze né influenzare all'esterno causando un ristagno di quella che è l'intera cultura del gioco di ruolo oltre ovviamente a tutti i problemi collegati al fatto che se tutti gli altri non sono veri giocatori di ruolo questo va anche a influenzare il giudizio lo abbiamo sulle altre persone e potrebbe portare a conseguenze estremamente spiacevoli e poi ci si domanda perché la gente è vent'anni che si scanna su ste cose ora se io fossi una persona seria questo sarebbe il punto d'inizio di un discorso molto più lungo e complesso su quale sia la differenza tra verità oggettiva l'impossibilità di comprendere la verità oggettiva e come l'uso di definizioni di verità limitate o personali possano avere ripercussioni molto gravi sul mondo reale su la politica su il modo in cui una persona possa non possa vivere la sua vita ma per fortuna io sono il master che ha e quindi possiamo dire questo video finisce qua dopo tutto il mio scopo non è quello di fare video in cui si risponde a delle domande ma solo quello di suscitare altre domande e poi lasciarle in sospeso lo dico per quelli che sono arrivati nuovi per questa stagione questo video un microcosmo dell'intero canale del master kai adesso non andate a cercare di cancellare i commenti che avete messo perché devono restare lì come definizione esempio pratico di come la verità soggettiva possa andare in contrasto con le verità e gli altri e come sia effettivamente difficile dare una definizione di gioco di ruolo prima di chiudere voglio anche ringraziare lucerto la rossa e giorgio gandolfi che hanno doppiato aristotele e udipro nella nostra scenetta queste sono le cose che la comunità del master kai fa per sfogare la sua bizzarria se siete interessati a fare robe strane in descrizione trovate il link del gruppo itelega nel server di disco dove ci organizziamo per queste cose come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovuta crescere il canale scrivetemi nei commenti se non l'avete già fatto la vostra descrizione ma anche se vi è mai capitato di trovarvi bloccati cercando di definire il gioco di ruolo per poi scoprire che avete escluso qualcosa o avete incluso qualcosa che non c'è come sempre io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao